Il progetto definitivo della variante stradale alla E45, tra Collestrade e Madonna del Piano, è stato finalmente presentato alla cittadinanza. L'assessore regionale ai trasporti, Enrico Mellasecche, ha spiegato nel dettaglio, insieme ai tecnici, quello che accadrà dopo decenni di attese con il nodo di Perugia. Dopo decenni in cui si è parlato di quest'opera, credo che con grande serietà si è giunti ad un punto fondamentale, cioè quello di avere il progetto definitivo predisposto da uno studio di progettazione per conto dell'ANAS. Oggi l'ANAS lo ha validato, lo ha inviato al Ministero dell'Ambiente per ottenere la via, sostanzialmente, cioè la verifica che le prescrizioni che erano state date a suo tempo per la via siano state osservate e il progetto è sicuramente anche migliorato. E l'invio al Ministero delle Infrastrutture per aprire, in base alla procedura della legge obiettivo, la conferenza di servizi. Quindi si sta procedendo come da programma, avremo ulteriori incontri al Ministero, mi riferisco al giorno 23 di questo mese, per cui si procede, si va avanti, perché riteniamo, a differenza di quello che sostiene qualcuno, che eliminare dal traffico da Collestrada a Ponte San Giovanni oltre 3.500 autotreni al giorno in andate e ritorno, eliminare automobili, migliorare e fluidificare l'accesso per le rampe di Ponte San Giovanni nella salita alle gallerie, soprattutto, secondo stralcio, realizzare la circonvallazione, eliminando buona parte del traffico di attraversamento delle gallerie, andrà a risolvere definitivamente un problema, un problema che viviamo tutti i giorni.